Il teatro, che mondo affascinante, magico, Shakespeare, Beckett, Oscar Wilde, Goldoni, Moliere, Eduardo e quanti altri, quante storie, quanti personaggi, ognuno diverso ed unico al tempo stesso, quante emozioni, gioia, dolore, paure, desideri, il palcoscenico, tutto prende vita, tutto diventa reale, sogno o realtà, illusione o vita vera, l'attore ha il privilegio di vivere tante vite diverse e a volte uguali alla sua, è il teatro. La scuola di teatro della Tantan offre a tutti coloro che vogliono vivere questa meravigliosa esperienza, l'occasione per emozionarsi ed emozionare. Corsi di teatro Tantan, visita il nostro sito www.associazionetantan.com o telefonoci allo 039 284 7773 per avere tutte le informazioni. inoltre se vuoi metti un like sulla nostra pagina di Facebook Associazione Culturale Tantan. Ed ora gentile pubblico andiamo a incominciare.